e prenderlo lì e ho capito ma io qua ti devo prendere figaro se non arrivi che cacchio fai perché ti butta per forza di là no secondo me fermati ferma che la tirano su a questo punto se che ne attacca la marcia tira la frizione trazione anteriore 4 trazioni c'ha sta moto si prega solamente da sul che il max e dopo prenderlo più veloce mi piace non mi piace all'andata questo tratto qua da qua mi è sembrato lunghissimo e si dopo quando torno indietro io guarda io l'avrei pulita sopra lì guarda bello comodo gliel'ho già detto anche a loro devo venire qua una volta io che c'ho la luna giusta col cavo che faccio sto pezzo qui arrivo lì per andare giù passa di qua lui usa questo si ma il problema davvero è da fermarti di colpo vai giù tu lì guarda che il vite arriva lì è sicuro tanto con la mia moto arriva lì fidati l'ho detto che arriva lì ho detto ormai lo so arriva sul lato perché queste sono talmente statiche che quando prende in mezzo te la tira su diritta la tua invece appena la riesce a guidare te la sposta dove ti tiri te invece questa qua se stai in mezzo te la butta là dov'è che bisogna prenderlo qua lo devi prendere qua diritto e fermarti la solo che adesso ci sono lasciarsi bagnati metti i piedi e ci vuole via scilla ma cosa fai? tocca a te vai tu io ti prendo no io la su te dai ci prendiamo che il vite si riposa qua devi prenderla e qui qui ho sbagliato anch'io se lo prendo l'importante è che butti su una ruota qua qua? si si perché quando il davanti arriva lì sei già fermo perché ti prendiamo tutti capito? prendetemi e per forza siamo qua senza problemi seconda seconda? si fino a che mai quella lì la seconda ti tira in testa qua io ho sbagliato ho preso la ma sai che una volta sono sceso di ma qua ce la prendi saliti non voglio andare tirando si si bravo vai indietro ancora caso vedi i porti di qua ma te mi tagli però sei arrivato ma corto è un gioco alto piano eh viene di là un po' siede con quella del vite riciclo se era con la tua con la mia era su perché? e come gli hai dato così la nostra arrivava su qua buon noi andiamo ciao Vito ciao Vito io torno indietro eh torna là dalle mucche ha detto che il Vito torna dalle vacche così cade alla faccia della grappa beh ma l'ha fatta giusta eh se gli aveva dato era su eh era su perché arrivava sul dietro qua guarda che il Vito adesso arriva là con il davanti eh arriva là e il dietro lo ferma qua eh ma è anche stanco stanco eh se l'ho presa bene guarda che ti arriva lì sui piedi eh ma non l'ho fatto neanche convinto io ma non gli hai dato gli hai dato finalmente e poi chiuso fa niente ma fa niente meglio di me che non la provo ascolta corto corto torni giù torni giù ma che c'è dentro lo pedale? eh sei stanco Vito no non gli ha dato ma è stanco figa gli ha dato è stanco occhio che ti fai male così eh oh è stanco cazzi di merda eh non scivoli vai indietro ancora come prima io l'altra volta l'avevo fatto su qua eh ma c'è un problema il micchi sai come la fa? prende questo prende col dietro questo qua la alza va a appoggiare il davanti là e si ferma sopra lì e dopo la gira fuori noto corto anche stavolta eh piano piano aspetta 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 scuola di atto corto anche stavolta è stanco gliel'abbiamo sporcato un po' tanto dopo loro se la bevono questa cosa ho perso un pezzettino di una roba voglio vedere se la trovo non è importante stai cercando la mia rotella? si è di là la sua rotella? no no ho perso un pezzo che se riesco glielo incollo ma non la trovo ma è della scorpa? si si arancione quindi? no no se fossi vai giù di qua le fossi me ma figaro se sbagli la ti incuzzi cioè ti impunti giù invece lui fa questo se tu fai questo effettivamente arrivi giù e l'unica cosa è che arrivi là hai tirato fuori i piedi appena hai tirato fuori i piedi la moto è andata la moto è andata ho aperto le gambe si ma hai visto quando fa i sassi lui che gli va sopra e sta lì così e ti dico è un altro mondo loro e non si stressa